ecco la camera umana che sta verso una sedia eh ah ah guardate la prima foto ferma guardatela che strana capetta sta incursata da sedia è proprio un umano eh si è un umano un umano un umano ferma hai fatto prima una foto almeno? hai fatto una foto? lei è umana si ma la vai a vedere la prima foto? ah 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 guardate che bellezza voglio vedere la prima foto il mondo un attimo guardatela che è questa e guardate là una pecora oh che sta fa?